Grazie Miriam. Ok, adesso chiamo sul palco Lorenzo D'Amelio con un titolo che già incuriosisce molto ed è A caccia di startup in Uganda. Vai, vai Lorenzo. In realtà secondo me c'entra molto e adesso quindi vi parlerò di questa iniziativa che si chiama Startup Africa Roadtrip. Ok, ce la facciamo. Sono Lorenzo D'Amelio, cofondatore e partner di un'agenzia di comunicazione che si chiama Beatrice e al contempo anche io ho più anime, quindi sono consulente e in particolare mi occupo di supporto alla strategia di business, di freelance, startup e PMI. Ho deciso tre anni fa di uscire dalla comfort zone, una delle diverse occasioni in cui mi capita di farlo, da buon consulente come penso molti di voi in questa stanza ogni tanto c'è questa necessità di dover uscire appunto fuori dalla comfort zone e quindi dalla zona del Piemonte, da Torino, sono uscito un pochettino, diciamo a livello dell'Italia, a livello dell'Europa, sono uscito ancora fuori e alla fine mi sono ritrovato in Uganda, a 10.000 chilometri di distanza esattamente. Perché? Perché nel 2017 è iniziata questa avventura, questa iniziativa e l'ultima estate, questa estate qua, abbiamo percorso alla fine 3.000 chilometri in questo roadtrip con questa banda di matti, nonché eccellenti professionisti d'Italia e non solo, tra Uganda, Kenya e Tanzania, quest'estate abbiamo percorso 3.000 chilometri a supporto delle startup. Per startup Africa Roadtrip appunto, questa è una foto della prima estate, della prima iniziativa. Tutto è partito da questa domanda, è davvero questa l'Africa, quella che vediamo nei TG, quella che vediamo nei documentari in Italia che spesso ci raccontano fame, denutrizione, povertà, notizie di cronaca tendenzialmente negative che parlano del continente. Io e Andrea, che è consulente business analyst per Dpixel, uno dei fondi di investimento per startup più importanti d'Italia, ci siamo confrontati sui trend dell'innovazione e della tecnologia che avvenivano nel continente e abbiamo deciso di andare su campo per capire esattamente che cosa stava succedendo. Quindi uniti da questa passione, da questo desiderio per l'innovazione, ma anche curiosi di capire che cosa stava avvenendo davvero. Tra l'altro appunto Dpixel qua nel Lazio ha lanciato recentemente un fondo di 14 milioni di euro di investimenti in startup, se qualcuno fosse interessato a seguirli. Siamo partiti dall'Istafrica per diversi motivi, innanzitutto contesto linguistico oltre che politico abbastanza stabile e dal punto di vista linguistico c'è l'inglese, quindi questa era sicuramente una possibilità buona per lavorare sul territorio. Età molto giovane, età del continente, età media, 18 anni rispetto ai 45 dell'Italia. Quindi possibilità di formare classe imprenditoriale nascente e una quantità di tech hub, quindi incubatori, co-working, che si contano in 46, tra Kenya e Uganda in particolare, che sono i primi paesi che siamo andati a trovare. Molte startup sono ai primi stadi di sviluppo, quindi potenzialità alte di supporto che potevamo dare, difficoltà di accesso al capitale. Nascono adesso le prime reti di business angel e quindi questo gap poteva essere una cosa interessante da esplorare per vedere se potevamo essere d'aiuto in qualche modo. Il modello che stiamo provando a realizzare con questa iniziativa, che è No Profit, può secondo noi essere esportabile e anche replicabile in altri paesi emergenti un po' in tutto il mondo, non solo in East Africa. I tech hub, per dare qualche numero, in Africa e nel continente erano 117 nel 2015 e nel giro di un anno, l'anno prima in cui noi poi siamo andati nell'estate 2017, sono diventati 300, quindi c'è un tasso di crescita molto molto elevato dal punto di vista dell'innovazione. Qua ci sono delle foto di dei workshop che abbiamo fatto, in questo caso qua eravamo a Dive Collab, che è un co-working supportato da Microsoft in Kampala, capitale dell'Uganda. Nello stesso periodo anche i colossi nel bene e nel male si sono iniziati ad interessare del continente, in particolare Zuckerberg nel 2016 è arrivato in Nigeria, quel puntino bianco là in mezzo. Poi Pichai di Google nel 2017, pure in Nigeria, che è uno dei cuori pulsanti dell'innovazione dell'Africa, si è fatto il suo selfie. Quindi Jack Ma recentemente, come sapete, sta andando tra virgolette in pensione e punta a visitare come leader di Alibaba nei prossimi 15 anni tutti i paesi del continente dell'Africa, a rappresentare se vogliamo che c'è un interesse che dall'Asia si sta spostando effettivamente sul continente africano. Conferma dei dati, Forbes riporta che nell'ultimo anno c'è stata una crescita ancora del 40% di anno in anno di co-working incubatori e quindi spazi dove sviluppare l'innovazione. Questa è una foto dall'incubatore Outbox, dove abbiamo fatto una Tech Week nel 2017 come formazione, è un incubatore che è sopportato da Deloitte e Google e abbiamo cercato quindi di mettere in pratica quella che è la nostra visione, ossia riuscire a creare un ecosistema imprenditoriale che sia senza barriere, senza confini e interculturale. Come lo facciamo? Tramite uno scouting di talenti, progetti, una formazione, un supporto a quelli che possono avere più alto potenziale e tendenzialmente potenziale sociale ed economico e quindi poi un supporto all'intero ecosistema. Ci ha aiutato molto, ci tengo a dirlo, in questo progetto Martino Ghielmi di Vado in Africa.com, che è una bella community dove appassionati di innovazione, tecnologia e Africa si incontrano, italiani e non, e tramite i suoi contatti e molti altri che abbiamo veramente recuperato dal basso, quindi tramite Facebook, LinkedIn, Twitter. Abbiamo creato una Tech Week da zero che qua vedete nella fase finale, quindi c'è un pitch che viene fatto dopo una formazione appunto su go to market strategy, auto pitch per il momento di incontro con gli investitori, business model, eccetera. e qua le start up selezionate facevano questo pitch di fronte ad aziende, business angel, c'è Phoenix International, un'azienda importante, c'è il country manager di Uber, Uganda, istituzioni e quindi un'opportunità che abbiamo cercato di dare loro. Qua sempre con il country manager di Uber, Uganda e invece in basso dall'altra parte c'è Matibabu che è un esempio di start up che mi piace riportare qua come storia perché loro sostanzialmente con questo dispositivo che hanno in mano cercano di unire computer science e medicina per far sì di risolvere uno dei più grandi problemi dell'umanità che è la malaria che mette centinaia di milioni di vittime ogni anno. Come fanno? Passano sostanzialmente da un'analisi in analogico al digitale quindi l'analisi non deve essere fatta tramite una siringa ma tramite letture infrarossi dei globuli sostanzialmente e in questo modo riducono la velocità, riducono i tempi e riducono anche i costi per fare questa analisi e spesso il problema è la prevenzione della malaria perché sono costi piccoli ma non se li possono permettere in Uganda. Sono stati indicati tra le top 100 start up al mondo da Google Ventures nel 2017. Questo per dire che forse appunto lì ci siamo incuriositi e mi hanno detto forse c'è qualcosa che possiamo imparare anche noi. Mentre tornavamo in Italia dall'estate del 2017 l'innovazione che incontravamo e che veniva raccontata era ancora più emergente quindi ad esempio qua leggevamo dei boda che sono queste moto taxi che ci sono in Istafrica che sostanzialmente permettevano non solo il pagamento in digitale come fosse Uber ma anche il pagamento tramite blockchain quindi tramite bitcoin stavano inserendo un pagamento tramite bitcoin per pagare il moto taxi. Questo nel 2017. Tutto ciò è in un panorama di contrasti molto forte quindi il salario medio già abbastanza alto se vogliamo in Uganda è di 200 euro al mese e l'età media è un record sostanzialmente mondiale di 15 anni di media di età in Uganda. Nel 2018 siamo andati a New York, no scherzo questa è Nairobi con diversi grattacieli come possiamo vedere e quindi in Kenya. Abbiamo trovato dei posti co-working veramente molto molto belli assolutamente all'avanguardia se non anche più avanti di molti altri posti che possiamo vedere qua in Italia, pannelli fotovoltaici eccetera quindi cose che diciamo tendenzialmente non ci aspettiamo, non ci aspettiamo di trovare questa innovazione in questi luoghi per quello che ci raccontano. Abbiamo fatto una formazione ad esempio con l'incubatore I4Impact che collabora con l'Università Cattolica di Milano. Abbiamo incontrato iniziative sociali per diciamo togliere dalla strada dei ragazzi e quindi riabilitarli tramite lo sport. Abbiamo incontrato questo a Joe Caffello che è Jonathan Mativo nella foto in alto che ad esempio lavora per educare dei coach che sostanzialmente portano l'ICT nei villaggi perché il gap tra la capitale e la provincia se vogliamo e i villaggi è molto più alta di quella che c'è da noi e ha contribuito ad educare tramite dei coach 75.000 persone nei villaggi del Kenya. Altri dati giusto per ribaltare la narrativa che c'è sul continente è che il Kenya sostanzialmente è il paese al mondo che ha il più alto tasso di penetrazione per il mobile internet. Quindi c'è un tasso di accesso ad internet che tendenzialmente è oltre il 90% da smartphone perché hanno saltato il periodo del desktop perché era troppo costoso e quindi una mancanza infrastrutturale in realtà poi ha accelerato con questa energia giovanile tutto il cambiamento. Un altro dato è che se alcuni di voi magari conosceranno Satispay altre app di pagamento mobile in Italia siamo tendenzialmente a un milione di utenti di queste app. Mentre in Kenya, nella sola Kenya su una base di 48 milioni di abitanti invece che 60 milioni di abitanti come in Italia hanno 20 milioni di utenti di Empesa che fa parte di Safaricom che tra l'altro è di proprietà di Vodafone di utenti che utilizzano quest'app. E sposta dei punti percentuali del PIL dal punto di vista economico l'uso di quest'app. Quindi decisamente 20 volte più avanti di noi se vogliamo. Sempre in Kenya ci sono circa 4 volte gli utenti di Uber che abbiamo in Italia quindi sono circa 360 mila. E quello che ci tengo a portare come testimonianza è che abbiamo incontrato delle start up che sì possono avere un impatto economico ma tendenzialmente spesso questo impatto economico è collegato immediatamente ad un impatto sociale, ambientale e di diverso tipo. Quindi se da noi magari l'ultima innovazione, la novità diventa il nuovo livello di Angry Birds qua ci sono dei problemi reali, morti urgenti che tra l'altro diventano replicabili diventano replicabili in molti paesi emergenti. In questo caso Sunivation l'abbiamo incontrato in Kenya che cerca di risolvere uno dei problemi più importanti del Kenya cioè che il 70% dei keniani non hanno accesso a un bagno a casa e quindi loro sostanzialmente permettono di avere un bagno per recuperare le feci, riuscire a decontaminarle tramite un processo e trasformarle in energia alternativa sostanzialmente. 17.000 persone all'anno muoiono per diarrea in Kenya e il goal di Sunivation è per il prossimo anno di arrivare a un milione di persone servite in questo modo e poi entro il 2030 possibilmente l'intera popolazione del Kenya. L'ultima edizione, qua c'è una foto fatta nella residenza dell'ambasciatore Domenico Fornara in Kampala, Uganda. Abbiamo fatto una bellissima serata dopo tutta una Tech Week. Questo è il fantastico team che ha supportato l'iniziativa, quindi si è allargato parecchio e l'attività che è stata fatta è stata questa. Abbiamo fatto una call per startup, recuperato quindi le candidature delle startup. Abbiamo fatto una valutazione e scelto coloro che potevano partecipare a questa settimana di formazione gratuita offerta alle startup in Uganda. Abbiamo fatto questa settimana tra il 5 e il 9 di agosto e adesso stiamo proseguendo con un mentoring a distanza, con un supporto per avere connessioni tra liste Africa e contatti che invece ci sono qua in Italia, con l'ecosistema italiano. Puntiamo per inizio 2020 a fare un evento in Italia per portare quale startup possibilmente. Queste sono delle scene della formazione fatta. Questa è la foto della finale tenuta alla residenza dell'ambasciatore. oltre 100 partecipanti e più di 15 tra business angel e altre tipologie di investitori. Questi sono appunto i dati, quindi oltre 100 startup che hanno partecipato all'application eventi che sono stati selezionati durante la formazione. Ci tengo a dire appunto che la nostra è un'iniziativa che da una parte vuole dare un supporto alle startup, dall'altra parte vuole contribuire a cambiare la narrativa che c'è sull'Africa. Io mi occupo di storie, professionalmente parlando, e quindi questo è anche un contributo che vogliamo fare. Quindi è stato bello poter uscire su Solo 24 Ore, su Wired, su Radio 24 per raccontare questa storia. Stiamo inoltre facendo un reportage, quindi chi ci segue sui social, su Startup Africa Road Trip, potrà vedere poi questo reportage fatto da un documentarista molto bravo che è Giulio Pedretti, con anche riprese e racconti da parte dei Masai in Kenya. Risultati che stanno arrivando, non solo grazie a noi, Zembo che è una delle startup che ha vinto, che si occupa di moto elettriche, nonché di piattaforma per cambiare la batteria delle moto elettriche, ha ricevuto un investimento. In Kampala ci sono 650.000 moto-taxi e questo rende l'Uganda, la Kampala in particolare, tra le 15-20 città più inquinate al mondo. Quindi con le moto elettriche si va a cercare di risolvere questo problema, hanno ricevuto 1.400.000 euro recentemente, poche settimane fa. con una notizia dall'altra parte, di nuovo per parlare di narrativa dell'Africa, che è che la notizia del Rwanda, il presidente del Rwanda, sta mettendo al bando le moto a benzina. Quindi una transizione verso l'elettrico che potenzialmente potrebbe essere molto più avanti di quello che sta succedendo da noi. Siamo andati infine in Tanzania, in posti altrettanto belli, dove magari faremo la prossima edizione. In queste pillole che vi lascio, volevo riportare di nuovo che un elemento che magari non sappiamo, la Tanzania per dire cresce del 6% come GDP all'anno, con tutti i contrasti che possono esserci in questi casi, ma appunto sono paesi che sono molto frizzanti, diciamo, in questo momento. Non vi parlo delle mie vacanze del safari a caso, abbiamo fatto appunto formazione, poi abbiamo fatto anche dei momenti più di svago. E lo dico perché c'è una colla aperta, quindi è un'iniziativa no profit, dove mano a mano si stanno unendo consulenti dal 2017 al 2018, poi quest'ultima estate, a fare questa esperienza. Forse riusciremo anche ad avere del supporto da alcuni sponsor per coprire delle spese, però chi vuole può andare sul sito e candidarsi per partecipare alla prossima edizione. Volevo finire con tre spunti, poi chissà se c'è tempo per un video di un minuto, altrimenti lo vedrete sui social. Uscendo da fuori dalla comfort zone, mi è rimasta appunto impressa questa frase che ho sentito online, che ciò che non ti sfida non ti cambia, quindi è proprio quando si fanno delle azioni che ci portano in situazioni di potenziale paura o difficoltà o di impreparazione, che sono i momenti dove noi riusciamo ad imparare. Quindi questo è un insegnamento che mi porta a casa e volevo condividere qua con voi. Un altro spunto è che è la gratitudine che dona la felicità e non viceversa, spesso noi pensiamo che se siamo felici allora possiamo anche essere grati. Questa è una foto che è stata fatta in Indonesia, ma per dire l'Indonesia, un indonesiano ha uno stipendio che è un duecentesimo circa dello stipendio di uno svizzero. E quindi così come in Istafrica, così come in Indonesia si va incontro a delle situazioni per cui forse a volte nel nostro correre frenetico da freelance varrebbe la pena fermarci un attimo e capire quante cose positive abbiamo, a prescindere, fin dal lunedì mattina, che è forse il più difficile. E per questo ho voluto ribaltare il give back con un give first, quindi penso che sia più saggio a questo punto forse donare innanzitutto prima che restituire ed è un po' forse quello che secondo me si aggancia bene al discorso di freelance camp, che è un po' un dono che ci facciamo l'un l'altro ed è un'azione che secondo me dovrebbe essere fatta in generale. Noi questa azione qua abbiamo fatta donando noi stessi senza aspettarci nulla in cambio poi in realtà appunto si fanno delle belle conoscenze nascono delle amicizie, anche altre cose e quindi pensavo che fosse un bel modo per finire lo speech. Non so se c'è modo di vedere anche il video durò un minuto questo è un video, diciamo una preview del reportage racconti in un minuto si può anche alzare un pochettino l'audio volendo l'esperienza fatta grazie a tutti con i vari homework che abbiamo incontrato e la collaborazione era con la Macerere University a Campana grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille